Sono per la prima volta qua ai Caraibi, in un'occasione molto interessante perché appunto grazie alla barca che vedete qua dietro di me ho avuto modo di navigare con gli alisei volando ed è un'emozione veramente grande. Rispetto al volo che ero riuscito a provare arrivando a Lanzarotte, devo dire che ho trovato la barca molto migliorata, quindi bisogna ringraziare i ragazzi dello short team perché hanno fatto un lavoro incredibile, io sono qua solo dal 4 febbraio, ma so che loro hanno lavorato short team equipaggio di fatto a tempo pieno e gli allenamenti sono andati molto bene, abbiamo perfezionato alcune cose che non sono andate tanto bene durante la regata transatlantica che hanno fatto gli altri e devo dire appunto che tutto gira bene, gli allenamenti sono andati bene, non vediamo l'ora, siamo pronti per affrontare questa regata. appunto 600 miglia si chiama così perché sono effettivamente quasi 600 miglia intorno a tutte le isole dei Caraibi ed è una regata particolarissima perché appunto mi ricorda tanto le regate a cui sono abituato io, cioè un continuo cambio di direzione, cambi vele perché sono a tutti gli effetti uno slalom e con la scusa che cambiano così tanto le condizioni proveremo vento, poco vento, coni di copertura dietro le isole, zone con onda, mare formato, zone di acqua piattissima, giorno, notte, cioè sarà veramente un calderone, una miscela incredibile di condizioni diverse. Io qua cercherò di dare una mano all'equipaggio nel prendere alcune scelte, avrò il ruolo di tattico, quindi insieme a Giovanni cercheremo di elaborare una strategia migliore sulla base appunto delle condizioni che troveremo per arrivare il prima possibile all'arrivo.